La fusione Corigliano-Rossano è un progetto illuminato che ha bisogno di essere coltivato e seguito nel suo divenire. Ora innanzitutto c'è bisogno di continuare a rendere i cittadini protagonisti e artefici di questo processo, creando coscienza e conoscenza. Su queste premesse Rotary Club di Corigliano e Rossano hanno tenuto nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, nel centro storico di Rossano, un'importante iniziativa che ha dato nuovi input al grande progetto della terza città della Calabria. Siamo al compimento di un'azione che è cominciata in nome delle associazioni del territorio e prosegue in questo senso. Siamo anche soddisfatti del fatto che i commissari nominati in sostituzione dei sindaci stanno compiendo un grosso lavoro anche di cucitura, che è la cosa più difficile. E' certamente un'opportunità in più che bisogna cogliere rispetto a quello che si è fatto nel passato in termini di sfruttamento delle potenzialità che il territorio offre, e ne offre veramente molte. Peraltro la fusione coincide anche con un altro intervento molto importante, che è la zona economica speciale, su cui ovviamente si dovrebbe aprire subito un dibattito. Il Rotary ha promosso un'iniziativa assieme agli altri, è riuscito a essere elemento di coagulo per tutti gli altri, è riuscito a essere elemento di unione, è riuscito a portare avanti un'idea insieme a tutte le altre associazioni, che poi è sfociata nei percorsi che ovviamente il territorio conosce bene. Non è un'immagine usuale del Rotary questa, però è una delle immagini che danno il senso del valore di questo tipo di associazioni. Giusy De Luca per la CNews 24